Nonostante il trascorrere dei mesi e i timori di un aumento dei contagi con l'arrivo dell'autunno, in provincia di Salerno sembra si resti impreparati nell'affrontare l'aumento dei casi di contagio. Dalla regione Campania iniziano ad arrivare, presso alcune strutture salernitane, indicazioni in riferimento alla gestione di una nuova emergenza Covid. Indicazioni arrivate già all'ospedale di Eboli, che ha però provocato anche una serie di polemiche e dubbi, dato che, secondo quanto emerge, la gestione dei casi Covid dovrebbe essere demandata a specifiche strutture già individuate anzitempo. Preso atto della inutilizzabilità degli ospedali modulari installati anche presso i ruggi d'Aragona, costato diversi milioni di euro e che doveva essere pronto per fronteggiare già la prima ondata dello scorso aprile ma mai attivato, tanto ad essere oggi oggetto di inchiesta giudiziaria, l'ente regionale aveva già a suo tempo indicato alcuni presidi destinati ad essere strutture dedicate al Covid, ossia l'ospedale Scarlato di Scafati, il da Procida di Salerno e l'ospedale civile di Agropoli. Si tratta di presidi destinati ad accogliere i pazienti Covid che necessitano di ricovero ospedaliero. Visto l'aumento di casi di contagio dalla regione, hanno invitato alcuni ospedali a tenersi pronti in caso di una nuova ondata, predisponendo i reparti Covid. Al momento non risultano essere giunte comunicazioni simili all'ospedale di Polla, che pertanto, laddove si trovi a gestire casi Covid, dovrà trasferire i pazienti presso l'ospedale di Scafati, indicato come presidio Covid per la parte a sud di Salerno e che peraltro oggi risulta già saturo, visti anche i numerosi ricoveri di pazienti asintomatici, ossia senza alcun sintomo da Covid. Tutto dovrà essere spostato sul Daprocida, che riaprirà come centro Covid giovedì prossimo. Resta da capire in che modo sarà utilizzato l'ospedale civile di Agropoli. Secondo quanto si apprende, pare che sul presidio sia stato effettuato un investimento di circa 2 milioni di euro, di cui 300 mila euro in adeguamento strutturale, realizzando un'ala appositamente dedicata alla gestione dei casi Covid, con ingresso separato rispetto al resto della struttura, a cui si aggiungono investimenti per nuove attrezzature. Resta però al momento ancora inutilizzato per assenza di personale dedicato. Con Scafati già saturo per il ricovero anche di pazienti asintomatici e Daprocida, che conta al momento 24 posti letti disponibili, per potersi servire di Agropoli occorrerà altro personale, che al momento non è stato ancora reclutato, da cui probabilmente l'indicazione è arrivata ad Eboli di essere pronto per un'eventuale nuova ondata, anche se, secondo quanto denunciato dalle sigle sindacali, non è attrezzato per la gestione dei casi Covid.